L'analisi del globale e del locale, che non è solo nelle costruzioni in cemento armato, ma è anche in tutta la cultura dell'uomo. Se noi, guardando una struttura nella sua globalità, revisiamo una sorta di monumentalità della struttura, è anche vero che guardando nella sua parte vediamo una specie di vitalità della struttura. C'è un aforisma molto bello che a volte viene assegnato come paternità a Flaubert, più volte ad Abivarburg, ed è che il buon Dio sta nei particolari, sta nel locale. E' anche allora per questa ragione che ho pensato di parlare di questo argomento. In questo argomento avremo dei passaggi anche proprio di storia della cultura, perché il cemento armato è anche storia della cultura per certi versi. E' questo bellissimo materiale, forse il più bel materiale del mondo secondo Pierluigi Nervi. Lasciatemi per introdurre allora queste due visioni del cemento armato, far riferimento ad un'altra importante metafora, stavolta di Benedetto Croce. Croce inizia a studiare giovane il materialismo storico e si accorge nel suo percorso che passa, ha detto lui, ha scritto, riprendendo i cosiddetti scavi di Pompei, passa da un periodo predatorio a un periodo scientifico. Cosa intendeva Croce? Il periodo predatorio è un periodo che è alimentato da alcune poche scoperte ma importanti. Diceva Croce, mi basta individuare qualche vaso prezioso di Pompei e da lì io scrivo, imposto una teoria. Questo è il discorso della visione globale. Cemento armato ha pochi vasi all'inizio, preziosi, pochi aspetti fondamentali. Il primo è questo forte collegamento, questo impossibile scivolamento tra la barra e il calcestruzzo. Quando noi andiamo a scrivere Epsilon S uguale a Epsilon C diciamo che queste due deformazioni specifiche sono due deformazioni uguali. La barra non può scivolare rispetto al calcestruzzo e da lì si sviluppa tutto e si è sviluppato tutto, almeno per un secolo, il discorso del cemento armato. Perché poi sono entrati certamente la questione degli aspetti e dei legami costitutivi lineari. Ma alla fine il punto essenziale è questo fatto, il fatto che la barra non possa scorrere rispetto al calcestruzzo. Questo è il vaso prezioso del periodo predatorio e della visione globale del cemento armato. Poi cos'è successo? È successo a metà degli anni Cinquanta ma vedremo che questo accadimento non è un accadimento solo del cemento armato è un accadimento nella cultura anche italiana ed europea. La voglia di entrare dentro nel dettaglio. E quindi cominciamo e si comincia con questo REM che nel 1961 pubblica ma i trascorsi precedenti suoi erano tutti orientati ad andare a studiare lo scivolamento della barra rispetto al calcestruzzo entra dentro quindi questo punto fondamentale. Il punto fondamentale è che si rimuove questa perfetta aderenza e nasce questa visione locale. Mi sembra che Belluzzi però al di là di queste due visioni abbia già nel 1948 abbia detto bene non si deve dimenticare che la teoria del cemento armato è soltanto un compromesso. Non dimenticate, vedo molto spesso dei giovani che hanno lasciatemi usare questo sostantivo anche se è un po' fuori luogo forse hanno l'arroganza che i propri calcoli del cemento armato siano dei calcoli diciamo come scolpiti sulla pietra non c'è nulla scolpito sulla pietra c'è solo un compromesso che dobbiamo portare avanti nel migliore dei modi cercando nello stesso tempo di ottemperare i nostri punti fondamentali ma d'altro canto anche confrontandoci con la realtà strutturale. Vediamo questi effemeridi che servono a introdurre il nostro discorso. non c'è anche per il cemento armato come capita nella storia una data della sua nascita qualcuno dice 1861 quanto il vasaio francese Monnier aveva inventato i suoi vasi qualcuno 63 d'altra parte se voi chiedete a una persona quando è finito il medioevo qualcuno vi dirà 1492 qualcuno vi dirà 1453 qualcuno ricorderà Copernico 1543 e qui è un po' così però c'è una data quella certa del 1867 nel 1867 Monnier brevetta questo straordinario diciamo questa straordinaria possibilità di progettare le strutture con questo nuovo materiale con il conglomerato armato e nascono quindi sul finire degli anni 80 dell'800 nascono le prime costruzioni in conglomerato armato e nascono ovviamente le prime norme di calcolo 1904 Germania 1906 Francia 1907 Italia metodo metodo N c'è una figura fondamentale di cui non dobbiamo dimenticare il nome è Emil Mörsch Emil Mörsch era un docente a Stoccarda Emil Mörsch è stato un persona un docente che ha capito benissimo la natura del conglomerato armato il fatto cioè che il conglomerato armato potesse diventare un materiale in grado di mediare attraverso appunto un compromesso tutto ciò che era stata la grande fioritura dell'800 sul fronte della scienza delle costruzioni quindi la meccanica del continuo e i casi di Dossain-Venard meccanica del continuo finisce 1823 con Navier e prima ovviamente con Cauchy 1855 Memoardo Savante Tranger ci sono i casi di Dossain-Venard questo patrimonio dell'umanità sul fronte ovviamente della nostra disciplina di scienza delle costruzioni viene riversato si è cercato di riversarlo nel conglomerato armato Emil Mors è stato il primo forse a capire che la strada era quella da seguire il suo testo capitale è uscito in lingua tedesca nel 1902 Der Bau Eisenbau e questo testo capitale viene però anticipato l'anno precedente nel 1901 da una piccola nota che io ebbi la fortuna di vedere tra le mani del professor Dei Poli e fu il professor Dei Poli a darmi questa nota e oltretutto a farmene anche la traduzione perché Dei Poli sapeva bene tradurre dal tedesco io di tedesco non sapevo nulla e quindi conservo ancora questa traduzione e conservo ancora questa nota che in realtà è una nota capitale perché ha già dentro tutto il metodo N e ha già dentro tutte le strade per progettare il cemento armato nella visione globale del problema è stata stampata su di una rivista di poco conto come capita spesso era capitato già per Einstein per la sua teoria della relatività rivista lì a Ginevra di pochissimo valore e invece bisogna guardare proprio anche quelle riviste ecco qui c'è tutto su questa già su questa materia c'è un fatto importante però quando nasce una nuova disciplina ci sono dei balbettamenti evidenti ci sono cioè delle incertezze si possono anche commettere degli errori basta avere la forza però di evidenziarli e di prendere un'altra strada Thomas Kuhn l'ha chiarito molto bene nella struttura delle rivoluzioni scientifiche la scienza va avanti per paradigmi alcuni sbagliati che bisogna correggere e è proprio la falsificabilità di questo materiale a renderlo scienza ecco vi faccio vedere solo questo strano modo del calcolo NBIC uno strano modo sbagliato però parliamo di NBIC quindi nel 1899 era un'autorità nel campo del cemento armato pensate di fronte a una situazione di questo tipo cioè andare ad analizzare ciò che succede in una sezione di conglomerato armato soggetta solo a flessione sappiamo tutti bocceremmo oggi uno studente che ci viene a dire che la compressione D è maggiore della compressione della trazione Z D e Z devono essere uguali ci deve essere l'equilibrio e la traslazione e nonostante questo NBIC scrive che D M è 0 uguale a Z N è 0 ma se D è uguale a Z come fa ad accadere quest'uguaglianza anche M è 0 deve essere uguale a N è 0 ma M è 0 e N è 0 sono assolutamente questi diversi bracci e allora mi diceva dei poli vedi Iori effettivamente noi siamo piccole cose e commettiamo degli errori pensa anche il grande NBIC ha commesso questo errore ecco teniamo conto di queste cose teniamo conto del fatto che poche cose sono scolpite sulla pietra e quindi il dubbio continuiamo ad essere sempre foriere deve essere sempre il dubbio per noi fondamentale questa invece è la prima edizione del testo di Mersch che fu pubblicato in Italia da Eppli del 1910 e si vede bene quel discorso di cui vi parlavo prima eccolo qua il discorso cioè le nostre strutture di conglomerato armato nella visione globale sono pensate come attraversate da queste isostatiche di compressione e trazione che vanno a costituire un unicum sono le stesse isostatiche che avete nelle ossa ad esempio del vostro femore l'osso del vostro femore non è un osso tutto pieno è un osso spugnoso che ha delle trabecole c'è stato un bellissimo testo di scienza delle costruzioni del colonnetti uscito nel 1941 da Inaudi che fa vedere proprio una sezione dell'osso del femore e si vede nell'osso del femore queste isostatiche di compressione e di trazione per cui le nostre ossa sono elementi leggeri perché hanno tante cavità ma hanno queste trabecole queste isostatiche di compressione e trazione che rappresentano il modo migliore per distribuire la materia in modo tale che quella struttura possa essere al massimo resistente in questa figura che trovate su questo testo capitale vedete le isostatiche di compressione di trazione e Mersch dice devo prendere atto nella visione globale di queste isostatiche e devo cercare ecco in rosso il famoso traliccio di Mersch devo cercare il modo di mediare attraverso un compromesso a questa distribuzione di isostatiche di compressione di trazione cercando il modo migliore appunto di salvaguardarle di salvaguardarle mi è capitato casualmente casualmente forse poco perché ho questo vizio della bibliofilia che mi trascino da anni il tarlo della bibliofilia e su una bancarella di Bologna ho trovato questi appunti di scienza delle costruzioni 1933 ad espoti cioè non c'è un autore probabilmente probabilmente sarà stato un allievo forse di Belluzzi che aveva assistito alle lezioni e poi ne ha fatti questi appunti per guadagnare qualcosa su questi appunti però c'è un errore abbastanza evidente si parlava dei balbettamenti questo è un balbettamento perché nel traliccio di Mors su questo tratto di forza tagliante la forza che separa la parte compressa dalla parte tesa e che è legata e neutralizzata dalla staffa ecco questa forza tagliante viene affidata a chi? alla staffa con la sua armatura e a una forza di tranciamento della staffa qui qui non si è capito nulla del traliccio di Mors traliccio di Mors non presuppone tranciamento il tranciamento se ci pensate un attimo non è null'altro basta andarsi a leggere le prime pagine dei promessi sposi il tranciamento non è null'altro che il far viaggiare un vaso di terracotta cioè abbondio don abbondio di farlo viaggiare con tanti vasi di ferro cioè le staffe se noi andiamo a presupporre che le staffe possano funzionare a tranciamento presupponiamo che le staffe alla fine vadano a tagliare come un coltello la materia del calcestruzzo che è nettamente più appunto vaso di terracotta più debole in effetti allora quando andiamo a vedere e questo c'è la firma del Belluzzi il volume del Belluzzi troviamo che questa cosa non funziona più viene cassata troviamo che per le staffe o meglio per la forza l'armatura inclinata si va a studiare questo triangolo che è il triangolo di equilibrio che vede la forza di scorrimento che vede la parte del puntone di calcestruzzo e che vede appunto la trazione nella staffa e quando andiamo invece a studiare la staffa verticale ci accorgiamo dell'intelligenza di Belluzzi perché ci sono molti modi per andare a individuare la formula di giuralschi alcuni pedanti noiosi e alcuni invece col colpo d'ala del genio facili che anche un ragazzetto se glielo si spiega con un po' di amore di attenzione lo può capire andiamo a prendere questa asta questa barra sul fondo di una trave è soggetta a una variazione di momento perché se non c'è la variazione di momento non c'è il taglio dire variazione di momento vuol dire che qui a sinistra ho un tiro diverso rispetto qui a destra vuol dire quindi che su questo tratto orizzontale ho un delta s una forza che tende a farlo scorrere questo piccolo tratto della mia barra metallica ma se questo tratto delta s tende a scorrere come lo posso fermare lo posso fermare con un triangolo d'equilibrio eccolo qui il triangolo d'equilibrio ma se è a 45 gradi i due cateti sono uguali e allora ecco che la delta s la differenza di tiro nelle due barre è uguale alla forza verticale e quindi salta fuori che questa forza verticale è uguale a che cosa a t su h0 ecco la formula di giuraschi per dx abituatevi a guardare i maestri e non invece le persone che scrivono magari dieci lavori e c'è un solo lavoro dietro ai dieci scritti è la cosiddetta diciamo così proliferazione dei panni e del vino cercate di andare a vedere quello che Calvino chiamava il midollo del leone in un problema quello che conta non gli orpelli che vengono continuamente a volte contrabandati un altro balbettamento siamo nel 1950 questo testo di costruzione in cemento armato viene stampato dalla UTET non da una casa di secondo piano l'autore è Cristoforo Russo non gli fa certo onore nel 1950 anche lui va a scrivere va a scrivere anche lui Russo ancora l'eguaglianza della forza di scorrimento con il tranciamento anche lui mai forse avrà letto i promessi sposi le prime pagine e anche lui non ha capito che i vasi di terracotta non possono andare con i vasi di ferro siamo nel 1950 quindi lasciamo stare anche il fatto di avere le staffe aperte il professor Migliacci vedendo le staffe aperte ricordo partiva sempre con delle imprecazioni colorite anche durante gli esami le imprecazioni di Migliacci colorite erano straordinarie io e Mola le volevamo mettere tutti in un libricino poi non ci siamo riusciti lasciamo stare quindi queste staffe aperte ma pensare che questa staffa lavori con come un piolo a tranciamento no non può essere e allora Colonnetti nel 39 vedeva attorno a sé queste cose Colonnetti grande professore di scienza delle costruzioni ma anche non dimenticatelo deputato all'assemblea costituente grandissimo intellettuale e di grande impegno civile Colonnetti scrive la teoria siamo nel 39 ancora oggi tanto imperfetta ed incompleta che non le riesce non dico di suggerir vie nuove ma neppure di dar ragione di quelle che suggerite dalla semplice intuizione hanno già avuto il collaudo dell'esperienza quindi nei primi cent'anni del cemento armato 1850 1950 ci sono questi balbettamenti ci sono queste difficoltà su questo non c'è dubbio ciò nonostante ciò nonostante cemento armato riesce a produrre delle straordinarie realizzazioni in questa sua visione globale avrei potuto qui concludere ho ancora una mezz'oretta concludere con tutte queste grandi diciamo realizzazioni ne metto due perché poi abbiamo anche altri argomenti la prima è una struttura che molti di voi conoscono vedo che ci sono anche architetti quindi sicuramente conosceranno la Lo Saus di Vienna questa struttura è stata progettata dall'architetto Lo Saus qualche anno prima è una struttura del 1911 qualche anno prima anzi nel 1908 Lo Saus pubblica un piccolo libricino da qualche tempo pubblicato in Italia dalla Delfi ornamento e delitto Lo Saus ovviamente è un oppositore della secessione di Vienna Lo Saus vuole un'architettura razionale Lo Saus non vuole orpelli e non vuole quindi ornamenti ciò nonostante Lo Saus in questo caso ha predicato molto bene ma ha razzolato un po' male perché se andate a vedere questa faccia molto diciamo compatta e così via però vedete che ci sono quattro colonne che non sono assolutamente portanti perché le quattro colonne sono quattro ornamenti perché la struttura portante è questo telaio di cemento armato già fatto benissimo perché è già un telaio che ha nei nodi ha le staffe che si ravvicinano come oggi insegniamo ha addirittura questo questo importante ferro questo che va a proteggere delle tensioni ricordi Antonio quanti studenti mandavi via qui proprio con la domanda del nodo soggetto a due momenti che creava la trazione in alto e che creava la compressione qui e lì dicevi ma non vede metta dentro una ferra e loro ma professore quante volte ho assistito a queste cose nel 1909 era già così era già così tenete conto che questo palazzo ha poi un'altra diciamo critica la critica veniva da Francesco Giuseppe perché l'imperatore che aveva il palazzo imperiale qui sulla piazza non voleva mai uscire dalla porta principale perché si trovava davanti questa facciata che lui definiva e ha definito più volte orribile però questo è un giudizio estetico sul quale non interveniamo quest'altra invece struttura è una struttura stupenda è la copertura dello stadio ora Artemio Franchi di Firenze di Pierluigi Nervi Nervi realizza questa struttura quando non ha ancora 40 anni 38 anni e realizza questa struttura con una visione globale straordinaria del conglomerato armato perché forse a qualcuno di voi sarà sfuggito ma questa struttura non è null'altra che uno schiaccianoci perché questo è una parte dello schiaccianoci questo è l'altro manico le due forze sono pressoché orientate come facciamo noi quando andiamo a schiacciare una noce e la noce non è null'altro che questa X di strutture in compressione quindi tutte strutture in compressione all'interno e tutta una struttura di trazione all'esterno e vedete qui mi sono divertito di prendere questa coppia anastatica delle armature e vedete come le armature vengono in questo nodo di trazione girate continuamente a tendere come fossero delle liane tese dentro alla muratura e a rispettarne la sua globalità ma adesso cominciamo abbiamo ancora venti minuti non voglio sforare cominciamo a vedere la questione della visione locale questo testo di Giorgio Israel ha avuto nella prima edizione francese molta fortuna in Italia pur essendo stato stampato dalla terza meno eppure la visione matematica della realtà è un bellissimo testo verso la metà del testo trovate una pagina dove si spiega la questione del carattere globale e del carattere locale all'interno non solo delle strutture delle strutture matematiche ma di anche di tante altre strutture e l'osservazione è questa prima c'è sempre uno sviluppo locale cioè lo sviluppo locale viene dopo c'è sempre uno sviluppo globale antecedente dopo c'è lo sviluppo invece locale è ciò che è avvenuto anche per il cemento armato e quindi comincia attorno alla metà degli anni 50 a esserci la sensibilità di andare di andare a studiare il cemento armato passando non più dalla strada maestra della sua monumentalità e della sua globalità ma da una strada secondaria più piccola del dettaglio laddove il buon dio va a localizzarsi come diceva Abbi Warburg questi due modi locale si diceva e poi globale in realtà se poniamo un po' attenzione alla letteratura alla storia dell'arte li vediamo sempre li vediamo sempre relativamente sul fronte della letteratura alla battaglia di Waterloo ci sono due grandi capolavori uno è la certosa di Parma di Stendhal l'altro è i miserabili di Victor Hugo Stendhal opera con la visione locale Stendhal scrive il suo diciamo così attore principale Fabrizio del Dongo viene buttato sul campo di battaglia di Waterloo e si accorge attorno a sé che ci sono degli schizzi di fango alti 3-4 piedi se andate a leggere Stendhal cos'erano questi schizzi di fango erano quelli che gli storici hanno capito dopo hanno capito dopo la letteratura serve anche alla storia oltre che alla scienza hanno capito dopo essere stata la chiave di volta della vittoria di Wellington a Waterloo erano erano i nuovi i nuovi proiettili i famosi Srapnel degli obici che sono stati fondamentali fondamentali questa è la visione locale di una cosa di un campo di battaglia invece Victor Hugo parla delle grandi colline parla ovviamente delle cariche di di cavalleria ma la battaglia viene vista lontana distaccata globale quindi c'è sempre questa opportunità non parliamo della storia dell'arte c'è questo bellissimo libro di Cassirer uno dei suoi più belli sul fatto del macro e del micro dentro al rinascimento non solo sul fronte della storia dell'arte facile richiamare l'arcimboldo e l'estate ma guardate questo quadro i due ambasciatori di Holbein uno dei quadri più importanti del rinascimento è l'inno del locale per tanti anni i critici dell'arte per quasi tutto l'ottocento hanno considerato ciò che vedete qui una specie di foglio di carta qualcosa di indistinguibile ci sono tanti testi di storia dell'arte dell'ottocento che arrivati al commentare questa parte anteriore dicevano non lo sappiamo forse un foglio di carta è stato nel novecento soprattutto sono stati Baltrusaitis e poi Federico Zeri a capire che non era null'altro che una anamorfosi cioè che cosa era un dettaglio locale che doveva essere messo in un contesto di pari dignità con il globale è ovvio che tutto è il globale ad eccezione dell'anamorfosi quindi è una prospettiva che è appunto focale unico tridimensionale il quadro ci sono questi due ambasciatori del re di Francia all'apice della loro potenza come vedete con l'arroganza di essere consapevoli di avere questa potenza e davanti c'era questo foglio dice Baltrusaitis su una pagina bellissima del suo libro sulle anamorfosi se andate alla National Gallery di Londra dove c'è questo quadro dice ve lo trovate davanti poi siete costretti a uscire alla vostra destra perché c'è una porta sulla destra dovete uscire da lì se prima di uscire vi girate indietro questa anamorfosi diventa un teschio dipinto benissimo è il momento mori è la vanitas vanitat et omnia vanitas di fronte alla potenza dei due ambasciatori questo è forse il massimo segno di una visione locale in un contesto globale ma se andate a leggere Pavese c'è un'età della nostra vita in cui viene quasi obbligatorio leggere Pavese è l'età che va dai 15 16 anni ai 30 uno dei testi più belli di Pavese è la bella estate ebbene sulla bella estate a circa metà del libro c'è questa frase scorgevo nell'alta parete dello spacco a fiorare radici e filamenti come tentacoli neri la vita interna segreta della terra ma questi filamenti non sono nell'altro che le barre e questa è la vita interna segreta del calcestruzzo armato quindi negli anni 50 c'è tutta una nuova filosofia che vede nel dettaglio nel frammento un nuovo modo di interpretare le cose avrei potuto mettere qui qualche quadro di Morlotti qualche quadro di Fautrie dei grandi dell'informale che hanno sempre lavorato sul dettaglio ma è ovvio che noi dobbiamo rimanere fermi al nostro tema e quindi parlare di colonnetti pongo solo alla vostra attenzione un fatto singolare Leinaudi nel 48 e nel 49 pubblicava un libro splendido di scienza delle costruzioni del colonnetti insieme alla bella estate di Pavese quanto è cambiato il nostro mondo anche nel campo dell'editoria cioè c'era questo desiderio di unire le due culture quello che invece purtroppo noi a fatica cerchiamo di riunire ma fortemente sono sempre separate in quegli anni però questo REM comincia a capire ecco qua che la barra non è idealmente ferma nel calcestruzzo in una sorta di osi di pace la barra se tesa la barra comincia a diventare a scivolare fuori e comincia con i suoi ringrossi a schiacciare il calcestruzzo e quindi non c'è assolutamente quella bella oasi di pace tra barra e calcestruzzo assolutamente quindi si apre un nuovo mondo si apre ed il nuovo mondo ci si accorge anche in altri casi professor Migliacci dopo che dei poli se n'è andato è stato alla fondazione Pesenti e lo è ancora oggi il direttore la fondazione Pesenti è stata una fondazione che ha insegnato a tante generazioni già di laureati come si doveva costruire in modo corretto il cemento armato ho preso da uno di questi testi 55 questo breve resoconto stenografico di Stabilini che prima di dei poli era il direttore si parla del crollo di una copertura avvenuta a Milano una copertura capriata capriata strana però perché vedete il tirante non era sull'appoggio ma era un popino più sollevato comunque ovviamente Stabilini si accorge che tutto nasce il crollo nasce perché c'è una concentrazione locale di tensione di questo perno sul calcestruzzo ritroviamo ancora l'eterna questione del vaso di terracotta la struttura di calcestruzzo e del vaso di ferro il perno faccio presente siamo nel 55 che l'anno precedente nel 1954 c'è stata la stampa di uno dei libri più belli di Dino Buzzati il crollo della baliverna racconta questo crollo della baliverna di una cosa accaduta a Milano in una grossa caserma che però dopo la guerra era stata adibita ad abitazioni in un pomeriggio di sole dice Buzzati questo personaggio un sarto voleva fare un po' di alpinismo sale sulla una parete di questo edificio si aggrappa a un perno anche lì dice Buzzati si aggrappa questo perno crea localmente dice Buzzati una tensione questo perno taglia il anche lui la parete e da lì si innesca un processo via via di crollo e tutto l'edificio crolla 54 il crollo della baliverna 55 stabilini rappresenta questo crollo realmente avvenuto a Milano ma cos'era questa capriata era una capriata di questo tipo una capriata che i trattatisti rinascimentali in primis il servio chiamano la capra perché è una capriata che vede il tirante non a livello delle due dei due appoggi ma un pochino più sollevata e quindi nasce una specie di vista della capra con le gambe divaricate come spesso capita a questi animali i trattatisti mettono al bando questa capriata e dicono nel 500 non usate mai una struttura di questo tipo perché è pericolosissima vi può crollare addosso ma una struttura di questo tipo se fate il calcolo delle libertà e dei vincoli trovate 9 a 9 è una struttura isostatica anche lei è una struttura isostatica anche lei il punto qual è? il punto è che se noi andiamo a confrontare la capriata classica dove il tiro è sotto qui il tiro andando più sopra non occorre per fare il calcolo vedo tante volte alcuni studenti che vanno in crisi per andare a determinare il tiro in questa catena vanno lì a studiare l'equilibrio di questo nodo cosa giustissima d'accordo ma poi vanno in crisi per cui la catena a volte risulta compressa ma basta fare questa semplice cosa prendine metà il carico va a metà da una parte e metà dall'altra questi due carichi hanno un braccio a e quindi questa struttura tende a perdere l'equilibrio come le lancette dell'orologio e per fermarla cosa bisogna fare? bisogna andare a trovare due forze ovviamente uguali e opposte che creino una rotazione nell'altro senso qui la rotazione ovviamente nell'altro senso ha un bel braccio qui ha meno e quindi questo tiro aumenta allora la capriata alla capra ha la disgrazia di avere un tiro più forte però se noi andiamo a studiare bene il collegamento di questo elemento teso non succede niente basta studiarlo bene perché i trattatisti dicevano che era da mettere al bando che era come la peste questa questa capriata per una ragione molto semplice perché nel 500 i tiranti di fatto erano in legno e quindi voglio vedervi andare a collegare un elemento orizzontale di legno un tronco magari di un bel albero a quest'altro anche lui di legno diventa difficile però da lì a mettere al bando andrei cauto certamente c'è un fatto c'è il fatto che in questo punto la forza è notevole e quindi se non si va a studiare bene come è stato in questo caso il perno il problema porta mal risolto al crollo un testo che anche questo pubblicato come sempre ho la fotocopia la traduzione di dei poli ancora con me nelle carte che mi sono più care questo testo di Birkenmaier una quindicina di pagine uscito nell'83 per me è stato molto importante è la prima volta che il metodo N quindi la visione globale viene collocato in una visione globale con una grande intelligenza con un altro colpo d'ala seguiamo questi maestri non perdiamoci nel leggere cose diciamo così molto dispersive e senza il midollo del leone finalmente qui dice Birkenmaier dobbiamo tener conto che la barra alla fine esce perché scorre rispetto al calcestruzzo perché se in una struttura e in una struttura ci sono le fessure laddove c'è una fessura vuol dire che una barra è uscita vuol dire che una barra ha avuto uno scivolamento rispetto al calcestruzzo c'è poco da fare il punto di Birkenmaier è che se questo scivolamento lo si va a considerare con una semplicità semplificando il problema lo si va a considerare come una variazione lineare eccola qui come un triangolo di qui un triangolo di là allora tutto il metodo N può essere reso diciamo già metodo locale con questa diciamo aggiunta questo per me è stato molto importante siamo nell'83 questa nota perché quando nell'86 esce questa nota capitale di vecchio Collins che dice ma insomma tutte queste grandi strutture di cemento armato come le possiamo studiare in tutte queste grandi strutture di cemento armato vediamo ecco qua delle membrane delle piccole parti locali eccole qua ma non possiamo allora andare a studiare questa monade alla Leibniz del cemento armato questa piccola membrana locale io ho avuto la fortuna di essere in questo grande gruppo di Milano del professor Dei Poli e avevo la fortuna tutti i giorni di dialogare col professor Migliacci ovviamente con il professor Dei Poli che voleva alle nove che io lo andassi sempre a trovare e coi treni sempre in ritardo sapete a volte mi era difficile poi a volte andavamo a bere il caffè da Corbetta in piazza Leonardo da Vinci insieme al professor Maia però poi nella giornata avevo la possibilità di parlare con Pietro Gambarova e con Ezio Giuriani Pietro Gambarova è stato quello che ha fatto meglio di altri tutta l'analisi del cosiddetto aggregate interlock cioè cosa si scambia tra due fessure mentre l'altro Ezio Giuriani sull'analisi della barra che esce dal Calcestruzzo ha avuto pochissimi rivali e allora io continuavo a parlare con loro e conoscevo molto bene queste loro leggi le conoscevamo molto molto bene le conoscevo molto bene un giorno casualmente ho avuto questa fortuna è stato un caso mentre c'era un appello d'esame molto noioso si chiedeva il metodo degli spostamenti ad alcuni studenti balbettanti che sbagliavano sempre molto spesso salta fuori mentre pensavo dico ma perché io non posso applicare un metodo degli spostamenti prendendo le leggi di Gambarova e le leggi di Giuriani e mettendole dentro in un nuovo approccio appunto secondo un metodo degli spostamenti e riuscito c'è stato anche per il cemento armato un 68 di grande fantasia di grande vitalità sono state le prove di Turliman che sono state fatte a Zurigo da Lampert e Turliman sono state le prime prove sul cemento armato che hanno mostrato come in una struttura di cemento armato si costruisse tutto un quadro fessurativo ma soprattutto come quel quadro fessurativo avesse degli spostamenti delle aperture e degli scorrimenti con dei poli siamo stati due anni a cercare di capire come poter simulare queste cose non si riusciva non si riusciva sbagliavamo prendendo una visione globale avevamo bisogno di una visione locale avevamo bisogno di trovare un elemento unico una membrana sola localmente in grado di rappresentare una monade una specie di DNA del cemento armato è stato questo il fatto e nell'85 con dei poli abbiamo subito pubblicato su una rivista di poco conto cioè letta in Italia prevalentemente l'industria italiana del cemento abbiamo pubblicato questo lavoro sulla torsione che per la prima volta ci è stato riconosciuto anche da Kaufman da Marti da altri per la prima volta nel cemento armato mette la visione locale al centro di tutto lo sviluppo del cemento armato poi io lo sanno tutti non sono un grande calcolatore ho più una fantasia nell'andare a trovare i collegamenti ma non sono un grande amante del computer e di tutto il resto ho avuto la fortuna di avere qui a Parma il professor Cerlioni prima e la Belletti dopo di avere due spalle molto robuste in grado di far loro i calcoli perché la nota dell'85 era una nota che io portai a compimento usando una Hewlett Packard da tavolo di poco conto perché quelle leggi le avevo discretizzate a conci e quindi tutto sommato diventava differenze finite tutto sommato diventava facile risolverli anche con un piccolo computer è chiaro che andando invece su elementi di maggior impegno lì c'è poco da fare bisognava entrare dentro negli aspetti fondamentali del calcolo computazionale prima con Cerlioni e poi nel 2001 con la Belletti quindi è a tre nomi il Parc ha avuto questa diciamo così consacrazione perché l'Asce l'ha pubblicato e oggi è tra le diciamo note che ha un coefficiente di citazione piuttosto alto e il Parc poi ha preso tante strade ha preso varianti eccetera però di fatto è ancora il modello del 1985 e poi quello del 96 2001 di Parma di Parc di Parc di Parc di Parc